Nonostante il costante calo degli infortuni e delle cosiddette morti bianche, il lavoro continua ad uccidere anche in Puglia. Eppure i dati emersi dall'Inail ad una prima lettura sembrano addirittura incoraggianti. Secondo il direttore regionale dell'ente nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, Mario Longo, però, i dati vanno spiegati. In Puglia, per esempio, ci sarebbe un calo di 2.000 incidenti tra il primo quadrimestre di quest'anno e lo stesso periodo del 2011. In realtà, come lo stesso Longo precisa, questo calo si spiega attraverso molteplici motivazioni, non ultime la recessione economica che ha sensibilmente ridotto la forza lavoro e incrementato il lavoro nero. E sempre il direttore regionale dell'Inail ricorda che, su quelli appena citati, resta un margine di aleatorietà, che va preso in considerazione ancora di più per l'analisi dei dati riferiti ai morti, il cui numero in Puglia sembra in controtendenza rispetto al resto d'Italia. Infatti, qui nel tacco dello stivale, il totale degli infortuni mortali nel primo quadrimestre di quest'anno ha già raggiunto quota 23, a fronte dei 77 accertati in tutto il 2011 e dei 75 di tutto il 2010.